Il 5 e 6 settembre mi hanno invitato a Mozambano, al festival d'amore e d'amicizia dell'associazione I Coturni, a parlare dei tarocchi. Vi invito tutti a venire, leggerò anche i tarocchi, è una quarantina d'anni che per strane circostanze me ne occupo e forse è la mia principale attività, soprattutto disegnarli, ma anche leggerli. Allora parlerò dei tarocchi, leggerò i tarocchi e sceglierò delle tavole che ho, ne ho tantissimi perché ne ho fatte una ventina di mazzi, come ho detto, quelle che riguardano di più l'amore e l'amicizia e se leggerò le carte parlerò d'amore e di amicizia, se parlerò dei tarocchi parlerò di amore ed amicizia. Allora ci vediamo presto, ci vediamo tutti a Mozambano il 5 e 6 settembre. Grazie a tutti.